Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tradi per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti per temporali tra Monte San Savino e Chiusi in entrambe le direzioni, spostandoci sulla FIPILICO dei attratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Arovesponsacco verso Firenze e tra Firenze Scandici e Scandici verso Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!